Hai avuto paura di morire? Sì, è vero, perché mi sono trovato in mezzo a due camion, quasi se mi vedevo un po' più addosso, io non stavo più qua. Pasquale Richiello è un operaio edile. Nel 2019 ha rischiato di morire mentre lavorava in un cantiere a nocera inferiore, nel Salernitano. La sua storia a lieto fine ce la racconta in occasione della Giornata Nazionale per le Vittime degli Incidenti sul Lavoro, organizzata da Anmil in tutta Italia. Sono un sopravvissuto perché sono vivo per miracolo. Pasquale ha 55 anni, una moglie e due figlie in una famiglia che dipende solo dal suo reddito. Ha riportato danni permanenti a un piede, ma è vivo. Molti suoi colleghi non sono tornati a casa. Io con l'imbragatura riesco in un'ora a produrre lo 0,5 di quella che è la produzione. Se invece l'imbragatura non la metto, riesco ad avere una libertà di movimento, produco di più. Secondo l'Inail, le denunce di infortunio sono aumentate del 39%. La sicurezza spesso viene percepita come un peso burocratico e come un costo. Non è nell'uno e nell'altro.